Ed anche quest'anno la vacanza della cancelliera tedesca sull'isola d'Ischia è finita. Otto giorni si è concessa Angela Merkel, la donna più potente d'Europa, per rilassarsi in compagnia del marito nel borgo di Sant'Angelo che l'ha accolta come sempre, da quando cioè era una semplice turista tedesca. È arrivata la Domenica delle Palme e ripartita a Pasquetta. Nel frattempo le solite passeggiate nel borgo e all'Epomeo, la gita in barca e le visite agli amici di sempre. Poche le uscite pubbliche, ha chiesto e preteso il rispetto della sua privacy, ma si è concessa anche una giornata napoletana per girare in centro come una normale turista, bere il caffè al Gambrinus, assistere all'hotello al Teatro San Carlo. Non ha nascosto la passione per l'arte con la visita al Museo Nazionale di Napoli, ma prima di arrivare sull'isola, l'altra domenica, si era concessa una visita a Pompei e agli scavi di Oplonti. Di questo interesse ne sono grati i cittadini di Pozzuoli e il loro sindaco Figliolia, che ha avuto modo di incontrarla e salutarla, all'andata e anche al ritorno. La Merkel sicuramente è stata più prodiga di contatti in terraferma che sull'isola, tant'è che proprio ieri, già arrivata a Pozzuoli, tra una portata e l'altra ha commentato la sua vacanza ischitana con il ristoratore puteolano. Ho trascorso una buona vacanza, ha confidato all'incredulo gestore. Giorni belli, peccato per il tempo, non sempre favorevole. Così, con un traghetto di linea, alle 13.30 di Pasquetta, la cancelliera è partita dal porto di Casa Micciola verso Pozzuoli per consumare lì il suo pranzo di congedo dall'Italia, così come aveva già fatto all'arrivo. Sull'isola, invece, poche e fugace apparizioni fuori dalle mura blindatissime di Sant'Angelo. Ed ora la cancelliera tedesca è ritornata ad occuparsi delle questioni internazionali sul tappeto, leggasi quella crisi in Crimea che pure aveva provato a minarle le vacanze ischitane. Ma nemmeno la telefonata infuocata con il russo Putin hanno distolto la tedesca di ferro dal suo relax. Costi quel che costi.